Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Una bella notizia come questa non poteva che fare il giro del web in pochi minuti Michelle Lunsichere e Aurora Ramazzotti sono pronte ad allargare la famiglia Non è mai troppo tardi per aggiungere alla famiglia allargata altri pargoletti Michelle Lunsichere non ha mai nascosta la voglia di una famiglia numerosa e soprattutto il desiderio di diventare quanto prima nonna anche se Aurora Ramazzotti non sembra avere molta fretta Come è successo per Belen Rodriguez, con la relazione instaurata con l'ex Antonino Spinaldese, anche per Michelle si palesa lo stesso dolce destino Il fatto ha portato alla showgirl argentina la tanto desiderata femminuccia Mentre per Michelle potrebbe essere il momento di un bel maschietto Il chirurgo che le ha rubato il cuore potrebbe quindi diventare presto papà e a dirlo, questa volta, è il magazine di Alfonso Signorini, chi Non è la prima volta che circola la voce, soprattutto su Aurora, di una gravidanza non programmata ma questa volta sembra esserci più di un fondo di verità dato da una soffiata Michelle Lunsichere e Aurora Ramazzotti comprano un test di gravidanza, la famiglia pronta ad espandersi Nella rubrica chicchi di gossip, si racconta di un aneddoto davvero curioso che riguarderebbe Michelle e Aurora, le due, in questi giorni, sono state insieme in vacanza in Sardegna per godersi un po' di pausa dai reciproci e proficui impegni lavorativi Il mare, il sole e il relax condiviso su social dà una idea abbastanza concreta di quanto insieme si divertono mamma e figlia Ma a quanto pare, secondo la rubrichetta che lancia sempre dei gossip infuocati, le due sono state pizzicate in farmacie intenti a comprare dei test di gravidanza Non è chiaro se fossero per l'una, per l'altra o addirittura per entrambe Ma il gossip è subito impazzito sul web.Michelle incinta di Angiolini e Aurora di Matteo? Secondo il web le due potrebbero essere incinta dei reciproci compagni Michelle da poco ha ufficiosamente resa nota la relazione col chirurgo Giovanni Angiolini, mentre Aurora è da anni che convive con il fidanzato Goffredo Cerza Insomma, non sarebbe proprio strano pensare che il test fosse per loro Tra l'altro la fortività del gesto fa pensare che nessuna delle due voglia rendere noto nulla per il momento Ma se aspettano smentite web, come sono sempre avvenute almeno nel caso di Auri Nel caso ci fosse silenzio da ambo le parti allora dovremmo iniziare a pensare che nel gossip ci sia qualcosa di vero In ogni caso non possiamo che fare i nostri migliori auguri a Michelle e Aurora Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video